Comune di Bettola, in provincia di Piacenza. La bortellina o bortlena, una specie di frittella a base di acqua e farina, è uno dei baluardi della cucina piacentina di ispirazione popolare. Nei primi anni 60 il maestro Gino Pancera decide di organizzare una festa popolare dove degustare un prodotto tipico della cucina piacentina, la bortellina. Insieme alla moglie Cesarina Bisi prova a cucinare la tipica frittatina, ma si rendono conto della difficoltà di poterla cucinare velocemente e in grande quantità. Chiedono allora aiuto a due fornai di Bettola, Walter Fagioli ed Ernesto Tonini. E dopo vari tentativi trovano la ricetta giusta. Acqua, farina, lievito, malto, strutto e sale. Ci puoi raccontare la storia della bortellina? Dunque, la bortellina, voi penso che sappiate, è un piatto tipico della tradizione della nostra vallata, della Val Nure, della zona montana. Un piatto molto semplice, fatto con ingredienti base, che sono la farina, l'acqua, il sale e poi viene fatta friggere nell'olio. Quindi è una cosa molto semplice, è una cucina povera che i nostri vecchi hanno sempre considerato un elemento fondamentale proprio anche per accompagnare vari tipi di pasti, perché è molto adatta poi ad abbinare ai salumi e ai formaggi. Le posso chiedere da chi è stata inventata? Beh, chi l'ha inventata non si sa. Probabilmente è stato qualcuno che ha voluto mettere insieme questi ingredienti per fare un qualcosa di gustoso, spendendo poco. La bortellina è un piatto tipico bettolese, però in altri posti è cucinata in altri vari modi? Sì, allora, prima di tutto non è un piatto tipico bettolese, ma come dicevo prima, è un po' una tradizione di varie zone, in particolare della provincia di Piacenza, diciamo, no? E ovviamente poi qualcuno la può arricchire, no? Ci può mettere, ad esempio, invece dell'acqua, ci può mettere il latte, oppure ci possono mettere qualche altro ingrediente, sì, che la rende più ricca, se vogliamo. Ecco, perché, come dicevo prima, la bortellina è molto povera come ingredienti. Chi ha avuto l'idea della bortellina bettolese? Allora, ecco, poi c'è la bortellina cosiddetta bettolese, di denominazione controllata, che è quella che voi vedete quando si fa la festa della bortellina. Quella è nata, la festa negli anni, inizio degli anni 60, 64-65, quando due panettieri bettolesi, Walter Fagioli e Tonini, che avevano il forno in Piazza Sant'Ambrogio, pensarono di fare una festa dedicata appunto a questo prodotto. E quindi l'allora presidente della Proloco, che era il maestro Gino Pancera, assieme a loro, inventarono questa ricetta, modificandone leggermente gli ingredienti per poter avere non più un qualcosa, come vi dicevo, classico della bortellina, cioè la pastella che poi porta a delle forme ampie e molto sottili, anche se croccanti, di questa classica bortellina, ma per creare un qualcosa che fosse possibile venderlo in una festa, ma soprattutto commercializzarlo in una manifestazione, come potrebbe essere una festa tradizionale, una festa locale. Così inventarono delle piccole frittelle, tra virgolette, che l'hanno denominata appunto bortellina bettolese, che partiva dagli stessi ingredienti e poi hanno aggiunto un qualcosa che impedisse di gonfiarsi troppo, perché se no sarebbe diventata la classica torta fritta di Parma e che è un altro prodotto simile alla bortellina che a Parma si chiama torta fritta, però più o meno gli ingredienti sono sempre quelli. E hanno inventato questa frittellina leggermente ambrata, cioè un po' dorata rispetto alla bortellina classica, mettendo qualche ingrediente che impedisse di gonfiarsi troppo e nello stesso tempo che comunque avesse una dimensione tale da poter essere commercializzata. Quindi hanno inventato questa bortellina bettolese, che è un sottoprodotto della vera bortellina, e ha dato la denominazione comunale nel 2011, è stata riconosciuta come denominazione comunale controllata, e ancora oggi questa festa è diventata un po' la festa di Bettole, la festa tradizionale della tradizione del nostro paese. Quindi diamo merito a chi ha pensato di onorare la bortellina a Bettole e anche di dargli una veste leggermente diversa che comunque potesse essere di facile consumo e di facile distribuzione. Grazie a tutti! Ci puoi leggere la poesia della bortellina? La bortellina, o i miei bettolese, è un mangiare senza pretese, che si prepara con il nostro manco e il gran gusto proprio nostro. Il mangiare in piscine, quando in gamba spunti sono in te, il mangiare in un momento, non si sedere, il mangiare fiole e fiole, dopo il ballo partirebbe sopra. La spuseina, vuol dire me, quando aspetta il suo bebè, la mangia per fiole e per vigo per fiole. Perché dici che la bortellina ha chiede una vita merda che fa nascere ragazze che siamo buoni a parlare in latte? E da grande, la perna fole, neanche a voi rastraffi fole. Grazie a tutti! Grazie a tutti!